Parte alta di via Romagna, proprio sopra le rotaie del tram, come vedete proprio in questo punto che i residenti hanno apposto questi cartelli, ladri hanno colpito di recenti in questa via, gli abitanti sono avvisati, tieni gli occhi aperti se noti movimenti o persone sospette. I furti sono avvenuti anche un 2-3 anni fa e hanno fatto danni e anche penso un 7-8 anni fa che c'era la signora al primo piano ha subito un furbo di 50.000 euro qui dietro le case e adesso ultimamente io ho saputo, da me non sono mai arrivati, però io ho saputo delle signore, questa signora mia vicina e quella su, che hanno messo i cartelli affinché tutti quanti cercassimo di dare un'occhiata. Io ho saputo di vedere qualche sospetto di persona che si aggirava da queste parti e io anche di solito vado sulla finestra spesse volte per vedere se... Anche in vista dell'estate quando la gente va in ferie? In vista dell'estate, specialmente quando siamo in ferie, qui e quando le persone non ci sono. E la parte finale di via Romagna, la più ripida, quella in cui alcune residenti hanno appiccicato i messaggi di allerta ai pali dell'illuminazione, una zona già nota alle forze di polizia che però si trovano di fronte a una situazione complessa da sorvegliare con il solo passaggio delle volanti, pur avendo di recente aumentato i passaggi nel rione. Quanto ai potenziali responsabili, l'intervistato, residente sul posto, accampa anche alcuni sospetti circa gli ultimi tentativi fatti nell'ultimo mese. E qui anche in questa villa sono venuti anche un paio di volte, ma non credo che abbiano cercato solo di forzare, poi visto gli allarmi se ne sono andati. Più di questo non posso dirle. Io non ho subito ancora furti e spero di non subirne, però bisogna sempre avere un occhio vigile per eliminare queste persone, perché tante volte ci sono stati degli operai qui, serbi che hanno fatto, serbi, kosovari, indifferentemente che cosa, che hanno praticamente fatto qui la casa vicina, l'hanno pitturata e dopo, fatto strano, sono avvenuti questi furti.